Posto Juventus-Real Madrid. Purtroppo finisce in malo modo, con profonda amarezza e tristezza. Onore Real Madrid che la merita in maniera netta, soprattutto nel secondo tempo, quando noi non scendiamo in campo. A parte le statistiche, a parte che noi ci credevamo molto di più, che tutti ci dicevano che 50-50 ce la potete fare, tutti questi discorsi, finisce proprio male, peggio di due anni fa contro Barcellona per me. Forse ci manca qualcosa per vincere questa Champions League che rimane maledetta. Ci sono mancati gli uomini chiave da Iguain, che non teneva neanche un pallone, a Dibaglia, alla difesa di Marmo, che ne prende quattro e tutti in una serata. Veramente terrificante quello che è successo ieri sera. Sono senza parole ancora. Comunque ringrazio questi giocatori per la stagione fatta, vincendo il sesto scudetto consecutivo e la terza Coppa Italia. Noi ci riproveremo di nuovo. Per vincere le finali bisogna giocarle. Però spero con un altro atteggiamento di carattere, soprattutto nel secondo tempo. Non così. Devevo avere più fame, più cattiveria. La storia la fare è Madrid vincendo la seconda Champions League, purtroppo. Con questo è tutto. Ci vediamo alla prossima stagione, con l'inizio della prossima stagione. E sempre fino alla fine, forza di Ventus ragazzi! Grazie! Grazie!